Siamo quasi arrivati! C'è un problema. Questo mese mi sono dimenticato di rimetterti l'antiparassitario. Ma non si può trovare qualcosa che duri più a lungo. Sai cosa vuol dire questo? Che non potrai entrare in contatto con cani, erba, terra, sassi, alberi, legnetti, ossi, cespugli, aiuole, fiori, foglie. Vuoi una buona notizia? Non dovrei pensare a tutto questo, perché ho avuto un'idea. Grazie a tutti!